Musica E beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo qua per andarvi a mostrare gli outfit migliori da utilizzare ovviamente nelle sfilate O altrimenti raga anche nelle semplici partite comunque degli outfit che secondo me a parere mio E anche ovviamente basandoci sul meme detto ci possono stare Vi ricordo di lasciarvi un bel like e una bella iscrizione Prima di iniziare col video mi raccomando vi ricordo il codice del creatore del negozio oggetti DAV denominati Raga utilizzatelo tutti mi raccomando dai raga E beh a che dire siamo pronti ad iniziare Io non parlerò quindi vorrò semplicemente vedere gli outfit e anche ovviamente in game come si mostra Quindi mi raccomando raga un bel po' di ciò in su una bella iscrizione Attivate la plana per non perdervi nessuno nei prossimi video E let's go raga Buona visione Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi raga Negli outfit non ci sarà nessun solito set Quindi né tra skin e backpack né tra backpack e piccone né tra skin e piccone E inoltre non ci sarà nessuna ripetizione di nessun item tra ovviamente gli outfit Detto questo ci si becca a fine video Buona visione 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 Buona visione